Lotto numero 769. Abbiamo i telefoni? Achille Vianelli, Duomo di Amalfi, un olio su tavolo, le dimensioni sono 30x40, l'opera è firmata in bassa destra e a tergo con il titolo. Viene messo in gara questo Achille Vianelli, abbiamo ricevuto molte offerte, è piaciuto molto, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 euro per offerte ricevute al banco, 1.800, 1.900, 2.100, 2.200 e 2.300 euro ed io mi fermo per offerte ricevute al banco, 2.400 Sofia, la sala, 2.500, 2.6 Sofia, 2.6 per la prima, 2.7 Doriana, 2.7 per la prima, 2.8 Sofia, la sala, 2.8, 2.9 Doriana, 2.9 per la prima, 3.000 Sofia, 3.000 euro per la prima, 3.000 euro per la seconda, se sta bene a tutti aggiudico a 3.000 euro a Sofia, 3.000 euro per la prima, per la seconda, 1, 2, 3, 3, quasi quasi, 1, 2, 3, 3, 3, 3.300 euro. 3, 5, Doriana mi brucia, devo fare i complimenti a Doriana, 3, 5 per la prima, 3, 5 per la seconda, se non sento altre offerte aggiudico al telefono a Doriana, 3, 5 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, Doriana 3, 5 complimenti. Grazie a tutti.